Sono scritto due parole perché sono emozionantissime ed è l'annuncio più importante della mia vita dato che con un'emozione incredibile desidero mettervi al corrente che martedì primo novembre alle ore 21 nel giorno di tutti i santi offrirò a Dio la mia vita grazie 8 buoni grazie dono al signore la mia vita consacrandovi come sacerdote a Ramia di questa chiesa Davide, dono del premier, marì premendo l'ombre le giude Toussaint gli offrirà servì o segnere e si consacrerà a Ramia ecco io so che a molti di voi sarà difficile che non potranno esserci a causa della distanza a causa di venghi appesi quindi vi prego comunque se volete ecco di di ricordarvi di una vostra preghiera che in cui io confido e che che farò che farò mia come come energia come come preghiera nemmeno si occupa che non può essere presente Davide come vanno ad essere a partire di lui e anche voglio quindi ringraziare tutti voi e ringraziare tantissimo la Madre Divina che vent'anni fa mi ha accompagnato qui in questo luogo benedetto da suoi anni vent'anni quant'anni avrei? 8 8 Davide, premersi la Madre Divina che ti ha vent'anni quando ti ha vent'anni vitt'anni da un'altra compagnia e ti ha intervenuto qui per la permessa dei miei genitori che ti ringrazio con tutto il cuore grazie 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 grazie